Bene, benvenuti, vedremo oggi con questi 5 minuti con come fare se scaricare un IR cioè un tipo di oggetti per OpenSIM che si trovano su internet io ho cercato Microscope OpenSIM, Nebadon è colui che lo fa sul suo sito ho reso disponibile questo IR quindi vado qua e la prima cosa da fare è salvarsi l'IR quindi tasto destro, save link as, cioè copia collegamento link come e qui ci mettiamo praticamente il, salviamo adesso qui avevo altri salvataggi salviamo il nostro, e questo lo salva dopodiché a questo punto dobbiamo lanciarci la nostra OpenSIM locale con SimmonaStick che abbiamo visto a suo tempo ecco vedete che ho lanciato Mowes di SimmonaStick poi ho lanciato l'OpenSIM.exe e a questo punto mi sono collegato con Imprudence nel mio inventory mi sono creato una cartella che ho chiamato IR-Import e a questo punto posso praticamente dalla console questa nera che abbiamo fare questo comando load.ir dove gli metto il nome e il cognome la cartella slash IR-Import la password e poi gli metto il file che ho caricato che mi sono salvato quindi facendo così load.ir questo deve essere fatto con l'avatar dentro ovviamente faccio invio quindi viene caricato questo OKC Microscope se vado dentro qui vedete che è comparso sotto IR-Import una cartella che si chiama OKC Microscope e qui abbiamo OKC Microscope se lo rezzo vedete che abbiamo il nostro microscopio ora a questo punto ce l'abbiamo sulla nostra sim locale dobbiamo portarlo su Craft o su Edmondo quindi come faccio? avendo Imprudence vado in altro altro export e mi salvo o KC Microscope salva nel momento in cui lo salvo tac a questo punto posso tirarlo su nella grid di destinazione sono entrato in Edmondo vedete e qui posso fare l'import import più upload ad esempio e mi vado a cercare il mio XML che mi aveva salvato il OKC Microscope.xml che mi aveva salvato prima lo apro e a questo punto vedete che viene creato il microscopio in ci impiego un attimo a farlo secondo di prima e vedete che noi abbiamo il nostro microscopio quindi Microscope OKC Microscope Nebadon così cerco di metterci dentro da dove è venuto no? e niente quindi a questo punto faccio prendi e ce l'ho nel mio inventory quindi elementi recenti OKC Microscope Nebadon e questo direi è tutto per come si fa a importare un year spero di essere come al solito stato abbastanza chiaro grazie a tutti